io sono pazzo e ubriaco e tu sei sei che la paglia .... .... ... My dear, come volete facciolo? sono tra i capelli, … Comunità avrebbe di insegnare, Quintena. No? È ora a tardi! si perché in Italia poi è che ti chiede la libertà di tacere il parco di addio cane in modo pratico se io parlando di rompe i gioioni ma va a chiamare imbecille non ti vedi che te stessi non ti capisci un cazzo di vita se parlo con te non capisci niente ma va a chiamare che porco imbecille non ti vedi che disgrazi mie dipende solo ai semi come ti e mi disgrazi mie che reti non dovrete di amare canario dio